Molto bene! Pronta? Scalcia! 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 È così che gli insegna a nuotare? Sì! Nell'acqua, se scalcia le zampe così, riuscirà a nuotare! Dobbiamo incoraggiarli! Scalcia! 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 Wow! Wow! Noterò velocemente! Noterò velocemente! Grazie, squalo! Oui! Tutti a bordo! Che bel modo di viaggiare! Reggiti forte! Ci sarà qualche turbolenza! Oui! Dio! Dio! Soltà su! Da questa parte! Dio! Arriva la spinta torbo! Oui! Sì! Ehi, can... Sì! Cinque, sei, sette, otto! Balliamo! Sì, 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 sì.